E' così, avevano cominciato a passeggiare per una Parigi favolosa, lasciandosi guidare dai segni della notte o badendo ai itinerari nati dalla frase di un clochard, da una mansarda illuminata in fondo a una strada nera, fermandosi nelle piazzette confidenziali per baciarsi sulle panchine o guardare i disegni del gioco del mondo, riti infantili del sassolino e del salto su un piede per entrarsi pinzoppetta nel cielo della domenica. La maga parlava delle sue amiche di Montevideo, degli anni dell'infanzia di un certo Ledesma, di suo padre. Olivera ascoltava distratto, un tantino spiaciuto di non potersi interessare. Montevideo era esattamente come Buenos Aires e lui aveva bisogno di consolidare una rottura precaria. Cosa stava facendo Traveller, quel gran perdigiorno, in quali impressionanti guai si era cacciato dopo la sua partenza? E quella povera scema di Gekrepten, il caffè del centro. Per questo ascoltava su agliato e disegnava sulla ghiaia con un ramoscello mentre la maga spiegava perché Scemp e Graciela erano delle brave ragazze. E quanto le aveva fatto male che Luciana non fosse andata a salutarla all'imbarco? Luciana era una snob e questo lei non poteva sopportarlo in nessuno. Cosa intendi per snob? domandò Olivera, più interessato. Ecco, disse la maga, chinando il capo come chi intuisce di star per dire una bestialità. Mi andavo in terza classe, ma credo che se avessi preso la seconda Luciana mi sarebbe venuta a salutare. Non ho mai sentito una definizione migliore, disse Oliveira. E poi c'era Rocamadur, disse la maga. Fu così che Oliveira seppe dell'esistenza di Rocamadur che in Montevideo si chiamava modestamente Carlos Francisco. La maga non si mostrava disposta a fornire troppi particolari sulla genesi di Rocamadur a parte il fatto che sarà rifiutata d'abortire e che adesso cominciava ad esserne pentita. Ma in fondo non me ne pento. Il problema è come vivrò. Madame Irene, mi chiede molto. Devo prendere lezioni di canto e sono spese grosse. La maga non sapeva bene perché era venuta a Parigi e Olivera si era andato convincendo che con una leggera confusione in fatto di biglietti, agenzia di viaggio e visti avrebbe potuto approdare tanto a Singapore quanto a Città del Capo. L'unica cosa importante era essere partita da Montevideo aver affrontato ciò che lei chiamava modestamente la vita. Il gran vantaggio di Parigi era che conosceva abbastanza il francese tipo Berlitz School e che si potevano vedere i migliori quadri, i migliori films, la culture nelle sue espressioni più preclare. Olivera si sentiva intenerito da questo panorama. Sebbene Rocamadur fosse stato un contrattempo abbastanza sgradevole, non sapeva perché. E pensava a certe brillanti amiche sue di Buenos Aires, incapaci di spingersi oltre Mar della Plata, nonostante tanta metafisica ansia ed esperienze planetarie. Quella mocciosa, con un figlio sulle braccia per di più, era salita su una terza di piroscofo e aveva tagliato la corda per studiare canto a Parigi senza un centesimo in tasca e come se niente fosse gli dava lezioni su come si guarda e si vede. Lezioni che lei non sospetta. Essendo il suo soltanto un certo modo di fermarsi improvvisamente per strada e sbirciare in un androne dove non c'era niente, ma più in là un barume verde, un bagliore ed allora infilarsi furtivamente perché la portinaia non si arrabbiasse, affacciarsi al grande cortile con qualche volta una vecchia statua o un pozzo con ledra o niente solo il consunto pavimento di pietre tonde muffa sui muri un insegna di orologiaio un vecchietto che prendeva ombre in un angolo e i gatti sempre inevitabilmente i minush morrongons miau miau kitten cat chat cat gatto grigi e bianchi e neri ed al mondezzaio padroni del tempo e delle mattonelle tiepide invariabili amici della maga che sapeva far loro il solletico sulla pancia e rivolgersi a loro con un linguaggio tra lo sciocco e il misterioso con appuntamenti a scadenza fissa consigli e ammonimenti passeggiando con la maga di colpo Oliveira si sorprendeva non gli serviva niente irritarsi perché la maga quasi sempre rovesciava i bicchieri di birra o tirava fuori il piede da sotto il tavolino esattamente in modo che il cameriere vinciampasse e si mettesse a bestemmiare era felice pur sentendosi costantemente esasperato da quel modo di non fare le cose come dovrebbero essere fatte di ignorare deliberatamente le grosse cifre del conto e invece sentirsi rapita davanti alla coda di un modesto 3 o ferma in mezzo alla strada la Renault nera frenava a due metri e l'autista tirava fuori la testa e insultava con accento piccardo ferma come se niente fosse per guardare dal centro della via da vista sul Pantheon in lontananza sempre meglio della vista che se ne aveva dal marciapiede e cose simili olivera conosceva già perico e ronald la maga gli presentò etienne etienne fece loro conoscere gregorovius il club del serpente si andò formando nelle notti di san germe deprè tutti quanti accettavano immediatamente la maga come una presenza inevitabile naturale anche se si irritavano perché le dovevano spiegare quasi tutto ciò di cui stavano parlando o perché voleva fare due etti e mezzo di patate fritte in aria semplicemente perché incapace di maneggiare decentemente una forchetta e le patate fritte venivano quasi sempre fra i capelli di quelli del tavolo vicino e bisognava chiedere scusa o dire alla maga che era una incosciente all'interno del gruppo la maga ingranava malissimo Oliveira si rendeva conto che era meglio vedere tutti quelli del club separatamente e andare a spasso con Etienne o con Babs e metterli nel suo mondo senza mai pretendere di metterli eppure mettendoli perché erano persone che non stavano aspettando altro che di uscire dal solito percorso degli autobus e della storia e così per un verso o per l'altro tutti quelli del club erano riconoscenti alla maga anche se la coprivano di insulti alla prima occasione Etienne sicuro di sé come un cane o una cassetta delle lettere diventava verde quando la maga sparava una delle sue davanti al suo ultimo quadro e persino Perico Romero aveva la compiacenza di ammettere che per essere una donna la maga era un osso duro per settimane o mesi il computo dei giorni risultava difficile ad Oliveira felice ergo senza futuro camminarono e camminarono per Parigi guardando le cose lasciando che capitasse quel che doveva capitare amandosi e bisticciando e tutto al margine delle notizie dei giornali dei doveri di famiglia e di qualsiasi forma di imposizione fiscale o morale toc 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 svegliamoci diceva Oliveira ogni tanto a che scopo rispondeva la maga guardando correre le penisce dal pontenef toc toc tu hai un uccellino nella testa toc toc ti becchetta dentro continuamente vuole che gli dia da mangiare cibo argentino toc toc e va bene rimbottava Oliveira non mi confondere con Rocamadour a questo passo finiremo per parlare in griglico al negoziante alla portinaia e vedrai che pandemonio guarda il tizio che va dietro a quella moretta lei la conosco lavora in un caffè di Ruy de la Provence mi piacciono le donne quel disgraziato è suonato con te ha tentato la moretta naturalmente ma poi siamo diventate amiche lo stesso le regalai il mio rouge e lei mi diede un libretto con un certo retef no aspetta retif sì sì ho capito davvero non siete andati a letto devo essere curioso per una donna come te non sei mai andato a letto tu con un uomo orassio certo esperienza capisci la maga lo guardava di sbieco con il sospetto che la prendesse in giro che tutto dipendesse dal fatto che era furente per l'uccellino nella testa toc toc l'uccellino che gli chiedeva cibo argentino allora si lanciava su di lui con grande sorpresa di una coppia che passeggiava per la rue Saint-Sulpice ridendo lo spettinava oliveira era costretto a tenerla ferma per le braccia cominciavano a ridere la coppia li guardava e l'uomo arrischiava un sorriso la moglie era troppo scandalizzata da quel modo di comportarsi hai ragione finiva per confessare oliveira sono incurabile sai parlare di svegliarsi quando in fondo si sta così bene addormentati si fermavano davanti a una vetrina per leggere i titoli dei libri la maga cominciava a far domande guidata dai colori e dai formati era necessario dare una collocazione a Flaubert dirle che Montesquieu spiegarle come mai Raymond Radigué informarla su quando te offre il gotier la maga ascoltava disegnando con il dito sulla vetrina un uccellino nella testa qualche idea da mangiare cibo argentino pensava oliveira sentendoci parlare povero me mamma mia ma non capisci che così non si impara niente finiva per dirle pretendi di farti una cultura per strada cara è impossibile piuttosto abbonati al Reader's Digest oh no quella porcheria un uccellino nella testa diceva a se stesso oliveira non lei lui ma lei cosa aveva nella testa aria o farina qualcosa di poco licettivo non era nella testa che aveva il suo centro chiude gli occhi pensava oliveira e fa centro esattamente il sistema zen per tirare con l'arco ma fa centro semplicemente perché non sa che quello è il sistema io invece toc toc e così andiamo avanti quando la maga faceva domande su questioni come la filosofia zen cose che potevano capitare al club dove si parlava sempre di nostalgie e di sapienze tanto lontane da potersi credere fondamentali di rovesci di medaglia dell'altra faccia della luna sempre Gregorovius si sforzava di spiegarle i rudimenti della metafisica mentre Oliveira assorbiva il suo perno e li guardava assaporandoli era insensato voler spiegare qualcosa alla maga Fossonia aveva ragione per gente come lei il mistero comincia esattamente con la spiegazione la maga sentiva parlare di immanenza e trascendenza e spalancava quegli occhi incantevoli da stroncare ogni metafisica a Gregorovius alla fine arrivava a convincersi di aver capito lo zen e sospirava stanca soltanto Oliveira si accorgeva che la maga si affacciava ad ogni istante a quelle grandi terrazze senza tempo che tutti loro cercavano dialetticamente non imparare dati stupidi le consigliava perché vuoi metterti gli occhiali se non ne hai bisogno la maga era un tantino diffidente ammirava terribilmente Oliveira e Détienne capaci di discutere tre ore senza mai fermarsi attorno ad Oliveira e a Détienne c'era come un cerchio di gesso lei voleva entrare nel cerchio capire perché il principio di indeterminazione era così importante in letteratura perché Morelli del quale parlavano tanto e tanto ammiravano aveva la pretesa di fare del suo libro una sfera di cristallo in cui il micro e il macrocosmo si unissero in una visione annichilante impossibile spiegarti diceva Détienne questo è come il numero 7 del Meccano e tu sei appena il numero 2 la maga ne rimaneva rattristata acchiappava una fogliolina sull'orlo del marciapiedi e parlava un po' e se la faceva passare sul palmo della mano la coricava prima in su e poi in giù la pettinava finiva per spolparla e lasciarne allo scoperto le nervature un delicato fantasma verde andava disegnandosi contro la sua pelle e Détienne la strappava di mano con gesto brusco e la metteva contro luce per cose come questa la ammiravano un po' vergognandosi di essere stati tanto villani con lei e la maga ne profittava per chiedere un altro mezzo litro e sarà possibile un po' di patatine fritte la prima volta era stato un albergo di Equivalet stavano gironzolando da quelle parti fermandosi ogni tanto nei portoni la pioggerella dopo pranzo è sempre amara e si doveva far qualcosa contro quel pulviscolo gelato contro quegli impermeabili che puzzavano di gomma allora la maga si strinse improvvisamente ad Oliveira e si guardarono imbambolati hotel la vecchia dietro al tignoso scrittoio li salutò comprensiva e che altro si poteva fare con quel tempo schifoso strascicava una gamba era un'angoscia vederla salire fermandosi ad ogni scalino per far montare la gamba malata molto più grossa dell'altra ripetere la manovra fino al quarto piano c'era un odore molle di minestra sul tappeto del corridoio qualcuno aveva versato un liquido turchino che disegnava come un paio di ali la camera aveva due finestre con le tendine rosse rammendate e piane di toppe un'umida luce filtrava come un angelo fino sul letto dalla trapunta gialla la maga aveva preteso innocentemente di far della letteratura di restare accanto alla finestra fingendo di guardare in strada mentre Oliveira controllava la spagnoletta dell'uscio doveva avere uno schema prefabbricato di queste cose o forse lo succedevano sempre nello stesso modo prima di tutto si lasciava la borsa sul tavolo si lasciavano le sigarette si guardava la strada si fumava aspirando a fondo si faceva un commento sulla tapezzeria si aspettava evidentemente si aspettava si compievano tutti i gesti necessari per far fare all'uomo la miglior figura lasciargli quando era necessario l'iniziativa a un certo momento si erano messi a ridere era troppo stupido gettata in un angolo la trapunta gialla restò come un pupazzo in forme contro il muro si abituarono a paragonare le trapunte le porte le lampade le tende le camere degli alberghi dal Cinquen a Rondusman erano migliori di quelle del Sistien per loro nel Septien non avevano fortuna sempre capitava qualcosa colpi nella camera raccanto oppure a tubi che mandavano un rumore lugubre già in quell'epoca Olivera aveva raccontato alla maga la storia di Tropman la maga ascoltava stringendosi a lui era bene che leggesse il racconto di Turgenev era incredibile tutto quel che avrebbe dovuto leggere in quei due anni non si sapeva perché due un altro giorno fu la volta di Petiot e poi di nuovo Heidman e poi ancora di Christie l'albergo finiva quasi sempre per far venire voglia di parlare di delitti ma anche la maga era improvvisamente invasa da una marea di serietà domandava con gli occhi fissi sul soffitto se era vero che la pittura senese fosse tanto meravigliosa come affermava Etienne se non era meglio fare economia per comprare un giradischi e le opere di Hugo Wolf che a volte canticchiava interrompendosi a metà senza memoria e furente a Oliveira piaceva far l'amore con la maga perché niente poteva essere più importante per lei e nello stesso tempo in un modo difficilmente comprensibile era come sottomessa al suo piacere lo raggiungeva un istante e per questo via deriva disperatamente lo prolungava era uno svegliarsi e un conoscere il suo vero nome e quindi ricadeva in una zona sempre un po' crepuscolare che affascinava Oliveira sempre timoroso di perfezioni però la maga soffriva davvero quando rientrava nei propri ricordi e in tutto ciò che oscuramente aveva bisogno di pensare e non poteva pensare allora era necessario baciarla profondamente incitarla a nuovi giochi e l'altra la riconciliata cresceva sotto di lui e lo rapiva si dava allora come una bestia frenetica gli occhi perduti e le mani torte in dentro mitica e atroce come una statua che rotola da una montagna strappando il tempo con le unghie la singhiozzi e un rantolo lamentoso che durava interminabilmente una notte gli conficcò i denti gli morse la spalla a sangue perché lui si lasciava andare di fianco già un po' perso e vi fu un confuso patto senza parole Oliveira sentì come se la maga aspettasse da lui la morte qualcosa in lei che non era il suo io sveglio un'oscura forma reclamante annichilimento la lenta coltellata supina che infrange le stelle della notte e restituisce lo spazio alle domande e ai terrori solo quella volta reso si eccentrico quale un matador mitico e per il quale uccidere e restituire il toro al mare e il mare al cielo vessò la maga tutta una lunga notte di cui poco parlarono in seguito la rese pasife la piegò e la usò come se fosse un adolescente la conobbe e desigette da lei la servitù della più squallida puttana la magnificò a costellazione l'ebbe fra le braccia con sapore di sangue le fece bere il seme che scorre per la bocca come una sfida all'ogos le succhiò l'ombra del ventre e del dorso e l'alzò fino al volto per uncerla di semedesima in un ultimo atto di conoscenza che solo l'uomo può dare alla donna la esasperò con pelle e capelli e bava e gemiti la svuotò fino allo stremo della sua forza magnifica la gettò contro un cuscino e un lenzuolo e la sentì piangere di felicità contro il suo viso che una sigaretta restituiva alla notte della camera e dell'albergo più tardi Olivera temette che si credesse colmata che i giochi presumessero di innalzarsi al sacrificio temeva soprattutto la riconoscenza nel suo aspetto più sottile che si trasforma in affetto canino non voleva che la libertà unico abito che si addiceva pienamente alla maga si perdesse in una diligente femminilità si tranquillizzò perché il ritorno della maga al piano del caffè espresso e delle visite al bidet fu contraddistinto da una ricaduta nella peggiore delle confusioni maltrattata in assoluto durante quella notte aperta a una porosità di spazio che pulsa e si espande le prime parole su quest'altra sponda potevano necessariamente flagellarla come fruste ma il suo ritorno al bordo del letto immagine di una progressiva costernazione che cerca di neutralizzarsi con sorrisi e una vaga speranza lasciò particolarmente soddisfatto Oliveira dato che non l'amava dato che il desiderio sarebbe finito perché non l'amava e il desiderio sarebbe finito evitare come la peste ogni sorta di sacralizzazione dei giochi per alcuni giorni per settimane per alcuni mesi ogni camera di albergo ogni piazza ogni posizione amorosa e ogni alba in un caffè dei mercati circo feroce operazione sottile e lucido bilancio si venne così a sapere che la maga aspettava veramente che Orazio la uccidesse e che quella morte doveva essere quella della Fenice l'ingresso nel concilio dei filosofi ovvero le chiacchiere del club del serpente la maga voleva imparare voleva istruirsi Orazio era esaltato chiamato convocato alla funzione del sacrificatore lustrale e siccome quasi mai si raggiungevano l'un l'altro perché in pieno dialogo erano tanto diversi e seguivano vie opposte e questo lei lo sapeva lo capiva benissimo allora l'unica possibilità di incontro era che Orazio la uccidesse nell'amore là dove lei poteva ottenere di incontrarsi con lui nel cielo delle camere d'albergo si affrontavano alla pari e nudi e là poteva consumarsi la resurrezione della Fenice dopo che lui l'avesse strangolata deliziosamente facendole cadere un filo di bava nella bocca aperta guardandola è statico come se incominciasse a riconoscerla a renderla davvero sua a trarla alla sua sponda la tecnica consisteva nel darsi vagamente appuntamento in un quartiere e a una certa ora a loro piaceva sfidare il pericolo di non incontrarsi di trascorrere la giornata soli avendo il muso in un caffè o sulla panchina di una piazza leggendo un libro in più la teoria del libro in più era di Oliveira e la maga l'aveva accettata per pura osmosi in realtà per lei quasi tutti i libri erano libro in meno avrebbe voluto essere presa da seta immensa e per un tempo infinito calcolabili fra i tre e i cinque anni leggere l'opera omnia di Goethe Omero Dylan Thomas Muriak Faulkner Baudelaire Roberto Arlt Sant'Agostino e altri autori i cui nomi la facevano sussultare durante le conversazioni del club a questo Oliveira rispondeva alzando sdegnosamente le spalle e parlava delle deformazioni rioplatensi di una razza di lettori a full time di biblioteche pullulanti di saputelle infedeli al sole e all'amore di case dove l'odore d'inchiostro tipografico annullava l'allegria dell'aglio a quei tempi leggeva poco occupatissimo ad osservare gli alberi i cordoni che trovava per terra le gialle pellicole della cineteca e le donne del quartiere latino le sue vaghe tendenze intellettuali si risolvevano in meditazioni senza profitto e quando la maga gli chiedeva aiuto una data o una spiegazione gliele forniva svogliato come cosa inutile tutto perché tu lo sai già diceva la maga risentita allora lui si sobbarcava la fatica di indicarle la differenza fra conoscere e sapere e le proponeva esercizi di ricerca individuale che la maga non eseguiva o che la disperavano d'accordo che in quel tempo non sarebbero mai stati d'accordo si davano appuntamento all'intorno e quasi sempre si incontravano gli incontri erano qualche volta così incredibili che Olivera si proponeva ancora una volta il problema del calcolo delle probabilità e lo rigirava da tutti i lati con diffidenza era impossibile che la maga decidesse di svoltare quell'angolo di Rue de Vaucirard esattamente nel momento in cui lui cinque isolati più giù rinunciava a rassalire Rue de Bussy e si orientava verso Rue Messier la Prince senza alcuna ragione lasciandosi trasportare fin quando la scorgeva all'improvviso ferma davanti a una vetrina assorta nella contemplazione di una scimmia imbalsamata seduti in un caffè ricostruivano minuziosamente gli itinerari e i cambiamenti improvvisi cercando di spiegarli telepaticamente fallendo sempre eppure si erano incontrati in pieno labirinto di strade quasi sempre finivano per incontrarsi e ridevano come pazzi certi di un potere che li arricchiva Olivera era affascinato dalle strampalerie della maga dal suo tranquillo disprezzo per i calcoli più elementari quel che per lui era stato analisi delle probabilità scelta o semplicemente fiducia nella rabdomanzia deambulatoria diventava per lei semplice fatalità e se non mi avesse incontrato domandava non so comunque sei qui inesplicabilmente la risposta invalidava la domanda rivelava gli strumenti logici dozzinali dopodiché Olivera si sentiva maggiormente capace di lottare contro i suoi pregiudizi bibliotecari e paradossalmente la maga si ribellava contro quel disprezzo per le cognizioni scolastiche funzionavano così punch and judy attraendosi e respingendosi come bisogna fare se non si vuole che l'amore finisca in una figurina o in una romanza senza parole ma l'amore quella parola tocco la tua bocca con un dito tocco l'orlo della tua bocca la sto disegnando come si uscisse dalle mie mani come se per la prima volta la tua bocca si schiudesse e mi basta chiudere gli occhi per disfare tutto e ricominciare ogni volta faccio nascere la bocca che desidero la bocca che la mia mano sceglie e ti disegna in volto una bocca scelta fra tutte con sovrana libertà scelta da me per disegnarla con la mia mano sul tuo volto e che per un caso che non cerco di capire coincide esattamente con la tua bocca e sorride sotto quella che la mia mano ti disegna mi guardi mi guardi da vicino ogni volta più vicino e allora giochiamo al ciclope ci guardiamo ogni volta più da vicino e gli occhi ingrandiscono si avvicinano fra loro si sovrappongono e i ciclope si guardano respirando confusi le bocche si incontrano e lottano tepidamente mordendosi con le labbra appoggiando appena la lingua sui denti giocando nei loro recinti dove un'aria pesante va e viene con un profumo vecchio e un silenzio allora le mie mani cercano di affondare nei tuoi capelli carezzare lentamente la profondità dei tuoi capelli mentre ci baciamo come se avessimo la bocca piena di fiori o di pesci di movimenti vivi di fragranza oscura e se ci mordiamo il dolore è dolce se soffochiamo in un breve e terribile assorbire simultaneo del respiro questa istantanea morte è bella e c'è una sorta di saliva e un solo sapore di frutta matura e io ti sento tremare stretta a me come una luna nell'acqua andavamo i pomeriggi a vedere i pesci nel chiedemegisserì di marzo il mese il leopardo quello acquattato ma ormai con un sole giallo in cui il rosso ogni giorno entrava un po' di più nel marciapiede che seguiva il fiume indifferente ai buchinist che non ci avrebbero dato niente senza denaro aspettavamo il momento in cui avremmo visto le vasche camminavamo lentamente rimandando l'incontro tutte le vasche dal sole e come sospesi in aria centinaia di pesci rosa e neri uccelli fermi nella loro aria rotonda un'allegria assurda ci prendeva cingendoci alla vita e tu cantavi tracinandomi ad attraversare la strada ad entrare nel mondo dei pesci appesi in aria tirano fuori le vasche i grossi barattoli in strada e fra turisti e bambini ansiosi e signore che collezionano varietà esotiche ecco le vasche sotto il sole con i loro secchi le loro sfere d'acqua che il sole mescola all'aria e gli uccelli rosa e neri girano danzando dolcemente in una piccola porzione d'aria lenti uccelli freddi li guardavamo giocando ad avvicinare gli occhi al vetro schiacciandovi il naso facendo infuriare le vecchie venditrici armate di reti per cacciare farfalle acquatiche e capivamo sempre meno ciò che è un pesce seguendo la via del non comprendere andavamo avvicinandoci a loro che non si comprendono attraversavamo le vasche e arrivavamo vicino come la nostra amica la venditrice del secondo negozio venendo dal Ponte Neff che ti disse l'acqua fredda li uccide è triste l'acqua fredda e io pensavo alla cameriera dell'albergo che mi dava consigli per una felice non la innaffi metta un piatto pieno d'acqua sotto il vaso così quando vuol bere beve e quando non vuole non beve e pensavamo a quella cosa incredibile che avevamo letto che un pesce solo nella vaschetta diventa triste e allora basta mettergli uno specchio e il pesce li diventa contento entravamo nei negozi dove le varietà più delicate avevano vasche speciali con il termometro e i vermicelli rossi scoprivamo fra esclamazioni che rendevano furibonde le venditrici più che certe che non avremmo comperato niente a 550 franchi pièce i comportamenti gli amori le forme il tempo era deliquescente qualcosa come cioccolata finissima o pasta d'arancio alla martinica in cui noi ci ubriacavamo di metafore e di analogie cercando sempre di penetrarvi e quel pesce era un perfetto giotto ricorderai e quei due giocavano come cani di giada oppure un pesce era l'esatta ombra di una nuvola viola scoprivamo come la vita si insedia in forme prive di terza dimensione che spariscono se si mettono di taglio o lasciano appena una piccola riga rosata immobile verticale nell'acqua un colpo di pinna e mostruosamente eccolo di nuovo là con occhi baffi pinna e qualche volta uscendogli dal ventre e ondeggiando un nastro trasparente di escremento che non finisce mai di staccarsi zavorra che all'improvviso li situa fra noi li strappa alla loro perfezione di immagini pure li mette a repentaglio per dirla con una delle grandi parole che tanto usavamo da quelle parti e in quei giorni la guida varen presero guivano più vigilava e la maga si appese ancora di più al braccio di riveira si strinse al suo impermeabile che sapeva di minestra fredda etienne pericò discutevano una possibile spiegazione del mondo tramite la pittura e la parola annoiato olivera passò il braccio attorno alla vita della maga anche questo poteva essere una spiegazione un braccio che stringe una vita sottile e calda camminando si sentiva il movimento lieve dei muscoli come un linguaggio monotone persistente una berlizzo ostinata ti amo ti amo ti amo non una spiegazione verbo puro amare amare e poi sempre la copula pensò grammaticalmente oliveira se la maga avesse potuto capire come all'improvviso d'obbedienza il desiderio lo esasperava inutile obbedienza solitaria aveva detto un poeta così tiepida la vita coi capelli bagnati contro la sua guancia l'aspetto Toulouse-Lautrec della maga per poter camminare rannicchiata accanto a lui in principio fu la copula violare e spiegare ma non sempre viceversa scoprire il metodo anti-esplicativo forse quel ti amo ti amo era il mozzo della ruota e il tempo? tutto ricomincia non c'è assoluto e poi bisogna riempire lo stomaco e vuotarlo tutto ritorna in crisi il desiderio ogni alcune ore ma è troppo diverso e ogni volta un'altra cosa inganno del tempo per creare le illusioni un amore come il fuoco ardere eternamente nella contemplazione del tutto ma subito si cade in un linguaggio smisurato spiegare spiegare borbottava Etienne se non nominate le cose neppure le vedete voi e questo si chiama cane e questo si chiama casa come diceva l'uomo di Duino Pericò bisogna mostrare non spiegare dipingo ergo sum mostrare cosa disse Pericò Romero le uniche giustificazioni del fatto che siamo vivi questa bestia crede che non esista altro senso che quello della vista e delle sue conseguenze disse Pericò la pittura è ben altro che un prodotto visuale disse Etienne io dipingo con tutto il mio corpo in questo senso non sono tanto diverso dal tuo Cervantes o dal tuo Tirso non so più cosa quel che non mi va giù è la mania delle spiegazioni il logo sinteso esclusivamente come verbo eccetera disse Oliveira di cattivo umore a proposito di sensi il vostro sembra un dialogo fra sordi la maga si strinse ancora più a lui adesso questa qui salta su con una delle sue bestialità pensò Oliveira ha bisogno di strofinarsi prima di decidersi epidermicamente sentì una specie di tenerezza astiosa qualcosa di così contradditorio che non poteva essere altro che la verità bisognerebbe inventare lo schiaffo dolce il calcio delle api ma a questo mondo le sintesi ultime sono ancora da scoprire per i quali ragione il gran logo sveglia peccato avremmo bisogno dell'amoricidio per esempio la luce autenticamente nera l'antimateria che dà tanto da pensare a Gregorovius di Gregorovius verrà a sentire i dischi domandò Oliveira Pericò credeva di sì Etienne credeva che Mondrian pensa per esempio Mondrian diceva Etienne con lui i segni magici di un clè sono finiti clè giocava con il caso con i vantaggi della cultura la sensibilità pura può sentirsi soddisfatta con Mondrian mentre per clè occorre un mucchio di altre cose un raffinato per raffinati un cinese davvero invece Mondrian dipinge assoluto ti metti davanti completamente spogliato e allora una delle due cose o vedi o non vedi il piacere il solletico le allusioni i terrori o le gioie sono assolutamente superflui capisci tu quel che dice domandò la maga a me pare che sia ingiusto con clè giustizia o ingiustizia non c'entrano disse Olivera annoiato quel che cerca di dire è un'altra cosa non farne subito una questione personale ma perché dice che tutte quelle cose bellissime non servono per Mondrian vuol dire che in fondo una pittura come quella di clè esige da te una laurea in lettere o perlomeno in poesia mentre Mondrian si è contenta che ci si mondrianizzi e basta non si tratta di questo disse Etienne certo che si tratta di questo disse Olivera secondo te una tela di Mondria basta a se stessa ergo ha bisogno più della tua innocenza che della tua esperienza parlo di una innocenza da Eden non della scemenza vada che persino la tua metafora di starsele nudo davanti a un quadro sa di preada mitico paradossalmente clè è molto più modesto perché esige la molteplici complicità dello spettatore non basta a se stesso in fondo clè è storia e Mondrian ha temporalità e tu muori per raggiungere l'assoluto mi spiego no disse Etienne se va scè come il Plut tu parli il cazzo disse Pericò è quel Ronald del cavolo che vive per il diavolo sbrighiamoci lo imitò Oliveira è cosa da schernirsi dal nevischio ti risiamo perché voi argentini pronunciate strano quando parlate cazzo quel tale Pedro di Mendoza venirgi in mente di andare a colonizzarvi assoluto diceva la maga dando calci a una pietruzza da una pozzanghera all'altra che cos'è un assoluto Orassio ecco disse Oliveira sarebbe come dire il momento in cui qualcosa raggiunge il massimo della sua profondità il massimo della sua portata il massimo del suo significato e smette completamente ad essere interessante sto arrivando a Wong disse Pericò si è trasformato in una zuppa d'alghe il nostro cinese quasi contemporaneamente viderò Gregolovius sbucare all'angolo di Rue de Babylon carico come sempre ed una cartella colma di libri Wong e Gregolovius si fermarono sotto il lampione e pareva che stessero prendendo insieme una doccia salutandosi con una certa solennità nel portone della casa di Ronald ci fu un interludio di chiudi l'ombrello come un savà c'è nessuno che accende un fiammifero si è rotta la minuterie che notte schifosa ah oui se va c'è e un'escesa piuttosto confusa interrotta il primo piano rotolo da una coppia seduta su uno scalino e profondamente immersa nell'atto di baciarsi allez se pas un air pour faire les cons disse Etienne ta gueule rispose una voce soffocata montes montes ne vous jene pas ta bush montresor salut va disse Etienne e guimono un caro amico al quinto piano li aspettavano Ronald e Babs ciascuno con una candela in mano e un puzzo di vodka scadente Wong fece un cenno tutti si fermarono per le scale e scorgò salmodiante l'inno profanante del club del serpente poi entrarono di corsa nell'alloggio prima che i vicini cominciassero ad affacciarsi Ronald si appoggiò alla porta pelli rossamente in camicia a scacchi la casa è accerchiata da cannocchiali damit alle dieci di sera si insedia qui il dio silenzio e guai al sacrilegio ieri è salito ad ammonirci un ispettore Babs come ha detto il solerte signore ha detto reiterate la mentele e noi che si fa disse Ronald socchiudendo la porta per lasciare entrare Gimonon noi questo disse Babs con gestaccio impeccabile e una violenta pernacchia e la tua ragazza domandò Ronald non so ha sbagliato strada disse Ghi credo che se ne sia andata stavamo così bene per le scale e di colpo sopra non c'era beh non importa tanto è Svizzera le nuvole schiacciate e rosse sul quartiere latino di notte l'aria umida con ancora qualche goccia d'acqua che lo sfogliato vento gettava contro la finestra debolmente illuminata i vetri sporchi uno roppo ed uno aggiustato con un pezzo di cerotto rosa più in alto sotto le glondaie di piombo forse dormivano i colombi anch'essi di piombo rannicchiati in sé medesimi esemplarmente anti-gargale protetto dalla finestra il parallelepipedo muscoso e odoroso di vodka e di candele biancheria umida e avanzi di stufato indefinibile laboratorio di Babs ceramista e di Ronald musicista sede del club sedie di femmini sdraio sbiadita pezzi di matita e fil di ferro per terra civetta imbalsamata con metà della testa marcia un tema banale suonato male un vecchio disco con un as profondo di puntina un raspare scricchiorare crepitare incessanti un riprovevole sax che in una notte del 28 o del 29 aveva suonato con la paura di perdersi sostenuto da una percussione da collegio per signorine un piano qualunque ma poi veniva una chitarra incisiva che pareva annunciare il passaggio ad un'altra cosa e all'improvviso Ronald gli aveva preavvisati alzando un dito una cornetta si separò dal resto e lasciò cadere le prime due note del tema appoggiandosi su esse come su un trampolino Bix spiccò il salto in pieno cuore il limpido disegno si scrisse nel silenzio con un lusso di zampata due morti combattevano l'uno contro l'altro fraternamente raggomitolandosi e ignorandosi Bix e Eddie Lang che si chiamava Salvatore Massaro giocavano a palla I'm coming Virginia e dove sarà sepolto Bix pensò Oliveira e dove Eddie Lang a quante miglia l'uno dall'altro i loro due nulla che in una futura notte di Parigi si battevano chitarra contro cornetta gin contro sfortuna il jazz come si sta bene qui fa caldo ed è buio Bix che folle formidabile metti jazz mi blues vecchio l'influsso della tecnica sull'arte disse Ronald posando le mani su una pila di dischi e guardando distrattamente le copertine questi qui di prima del long playing avevano a loro disposizione meno di tre minuti per suonare adesso invece ti si fa avanti un volpone come stanghezza ti si pianta venticinque minuti davanti al microfono e così può lasciarsi andare come vuole dare il meglio che ha il povero Bix doveva cavarsela con un coro e basta appena si scaldavano zass finito chissà quante arrabbiature quando incidevano mica tante disse Pericò doveva essere come fare sonetti invece che odi e dire che io di quelle scocciature lì non me ne intendo sono venuto perché ero stanco di leggere in camera mia un saggio di Julien Marias che non finisce mai grazie a tutti